La FIFA Women's World Cup La FIFA Women's World Cup Sarà battaglia vera ragazzi in campo E tra due squadre che sono certo faranno di tutto per portare a casa la vittoria La FIFA Women's World Cup In grafica vediamo le titolari degli Stati Uniti per questa sfida Grazie a tutti Questo è l'undici di partenza della Danimarca 4-3-3 ampio con le due ali a supporto della punta centrale Gioca da specchio le due squadre quest'oggi La differenza la faranno i singoli Pier Io mi aspetto una bella sfida a distanza tra gli esterni offensivi Le sovrapposizioni, i tagli potrebbero creare più di qualche imbarazzo alle difese Inizia il match allo Stadium Australia Tentativo di traversone Attenzione da lì Determinante la deviazione Occhio al pallone in mezzo Non un buon lavoro difensivo qui Rodman Conclusione che termina fuori di poco Ha cercato il gol puntando sulla potenza Ok, ma così facendo Le è mancata la precisione necessaria Avrebbe dovuto far meglio da quella posizione Pier Arriva il momento del cambio Azione che può diventare pericolosa Occhio Splettino il tiro Che finisce alto Buona lettura del difensore Palla in rete Stavano dominando Ed è arrivato il gol Qui ha potuto colpire da pochi metri Portiere non ha potuto fare altro Che raccogliere il pallone in fondo alla rete Fisca l'arbitro Primo tempo che va dunque in archivio Secondo tempo che ha appena iniziato Allo stadio in Australia C'è un cambio Va con il possesso palla Grande possibilità questa Ottimo l'intervento del portiere Il tuffo Decide così il mister Il pubblico vorrebbe la conclusione Potevano rattoppiare qui Il risultato che non cambia Sono sempre avanti di un gol Vediamo se accuseranno il colpo O se continueranno a giocare con la stessa intensità Provano a caccia del gol del pari Pareggio solo sfiorato qui Ha cercato il jolly Ma il jolly Capita una volta ogni tanto La mette in mezzo Palla che resta lì La respinta del portiere Palla ancora in gioco Palla recuperata senza problemi dal portiere Ma comunque ha sottolineato l'ottimo intervento di prima Ha salvato letteralmente il risultato E si prende giustamente i complimenti dello stadio Fischia l'arbitro Cala il separo su questa sfida Porta da casa una vittoria importante Per il morale e per l'autostima Una vittoria di misura Che sottolinea il grande equilibrio Che ha caratterizzato l'incontro di oggi Questo è un risultato importante È ottenuto contro un avversario Che non ha mai mollato Andiamo a vedere insieme I dati della partita e le valutazioni dei giocatori Diamo un'occhiata a tutti gli incontri Del tabellone del torneo Questo è il risultato finale della partita Statistiche giocatori Vediamo chi sono i migliori marcatori e gli assist men Andiamo a vedere cosa dicono i giornali Ciao 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 Ciao